Presidente Marsiglio, oggi a Milano ha presentato il Giro d'Italia Femminile, le ultime tre tappe in Abruzzo. È un altro grande successo nella nostra strategia di promozione del territorio e soprattutto di promozione del territorio attraverso il mondo del ciclismo, dal biciturismo alle gare agonistiche. Il Giro d'Italia Femminile non è un piccolo giro, è un evento sportivo importante sul quale si sta investendo molto, stanno investendo molto gli organizzatori. Anche questo entra nell'orbita dell'organizzazione del gruppo RCS che è lo stesso che gestisce storicamente il Giro d'Italia maschile. Verrà proiettato sulle trasmissioni televisive in parallelo con il Tour de France, praticamente un'ora prima del collegamento con il Tour de France, nelle stesse televisioni verrà proiettata e trasmessa anche il Giro d'Italia Femminile. Significa grande pubblico, grande attenzione, soprattutto il riconoscimento che in Abruzzo ci sono i luoghi, i percorsi, lo scenario e anche le capacità organizzative per ospitare grandi eventi di livello internazionale. Siamo molto soddisfatti e orgogliosi per questo riconoscimento.